Un occhio, un occhio, un occhio. Un naso, un naso, un naso. Una bocca, una bocca. Una bocca. Una faccia, una faccia. Piedi di una persona. Piedi di una persona. Piedi di una persona. Un orecchio. Un orecchio. Un orecchio. L'uomo sta toccando l'orecchio del cavallo. L'uomo sta toccando l'orecchio del cavallo. Zampe d'elefante. Zampe d'elefante. Zampe d'elefante. Una testa di donna. Una testa di donna. Una mano. Una mano. Una testa d'uomo. Una testa d'uomo. Una testa d'uomo. Mani e piedi. Mani e piedi. Mani e piedi. tre mani tre mani quattro mani quattro mani quattro braccia quattro braccia quattro braccia tre braccia tre braccia tre braccia le mani dell'uomo sono sulle sue ginocchia le mani dell'uomo sono sulle sue ginocchia. Le mani dell'uomo sono sulle sue ginocchia. La testa dell'uomo è nelle sue mani. Le mani dell'uomo sono sul tavolo. Le mani dell'uomo sono sul tavolo. Le mani dell'uomo sono sul tavolo. Una mano è sulla faccia dell'uomo e una è sul suo gomito.